Ciao a tutti e cacciati per questo nuovo episodio di minecraftita come ogni sera siamo qui per registrare l'episodio cioè come ieri sera sono qui per registrare l'episodio di oggi ok no cos'è inception non lo so insomma siamo qui per registrare ehm dir il vero oggi ho iniziato un po' prima e sono stato un paio d'ore a lavorare alla barca come avevo promesso mi sono messo l'impegno ad uscire qualcosa di carino devo ancora completarlo al 100% la finiremo assieme ho fatto anche uno speed build giusto perchè ho visto che l'ultimo speed build che ho fatto vi è piaciuto ora devo andare di la senza inquadrare no non inquadrare non inquadrare cattivo azzurro ah vabbè intanto l'avete visto nella thumbnail sicuro uno 100% grandi successi anyway il progetto iniziale era quello di andare proprio full out full in come si dice all in e fare una bestia per bestia intendo volevo fare la perla nera dei parti dei caraibi avevo trovato anche il design proprio blocco per blocco su internet anche il design che ho preso adesso non è mio l'ho trovato su internet ho provato a fare una barca mia ma è venuta piuttosto merdosa ho provato a fare due versioni sono entrambi merdose ci ho perso troppo tempo sopra e alla fine quindi sono andato per la versione e la mia idea era quella di fare la perla nera avevo trovato il video adatto cioè il video la il template adatto e veniva una cosa fighissima però già solo a fare questa che è molto più piccola ci ho messo due ore non sarei mai riuscito a fare un episodio solo la perla nera zero proprio sarebbe stato impossibile ora dovrei avere altra lana qui black bull ho deciso che la farò nera quindi dovrò andare a farmare altri altri cosi qua perchè non ne ho troppi ho usato un botto per la farm del wither ora sono un po' a secco è notte? penso di sì 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 è notte ok quindi ora andrò a farmare un po' di cosi di Inksak e niente nel frattempo direi che potete godervi eh lo speed build 1-1 insomma quello sì andiamo fammi dormire oh shit e 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 spero vi sia piaciuto questo timelapse come al solito se vi è piaciuto davvero magari lasciate un mi piace e fate vedere ne so al vostro cane secondo me il vostro cane apprezzerebbe si si ci ho parlato l'altro giorno e mi piaceva gli piaceva l'idea di 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 una nave nel mondo di minecraft vita quindi secondo me doveste anche chiedere al vostro cane si 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 ok basta ok non ho preso tutta tutta la la roba che mi serve comunque questa zona è perfetta per farmare squida proprio perfettissima bisogna sorveggere un po' ma se ne trovano a bizzeffe e ehm però tutto il tempo di registrazione di oggi diciamo che l'ho utilizzato su su fare lo speed build ehm quando avete visto delle zone morte è stato principalmente ehm della serie che i chunk si scaricavano e perchè sono andato alla fama delle guide a farmare un po' di legno perchè mi servivano dei delle fence per terminare la roba 8 8 dovrebbero bastare 8 mi sembra un buon numero ok ehm ora andiamo a fare le vele le faremo in questa direzione perchè la punta l'ho messa da questa parte l'ho fatta strategica nella serie ci ho pensato prima che non è una cosa che faccio molto spesso eh pensare in che direzione mettere la punta di una cosa ottimo in che senso può essere molto disinterpretata quella cosa che ho appena detto ehm comunque volevo dire l'ho messa di la perchè così so già che farò lo screenshot tipo con il sole lì la bandiera magari tipo così tipo così con il sole dietro boom best screenshot EU quello quello come si dice è l'obiettivo ah e come faccio ogni tanto colgo anche l'occasione per ricordarvi che io ho una pagina facebook dove posso cazzare e robe varie e è il modo migliore per seguirmi e robe varie e poi sto ehm piano piano ehm cercando di rispondere a tutti i messaggi lo so ehm avevo detto che la mia politica è sempre stata se puoi cercarlo su google non chiederlo a me però mi sto sforzando anche se sono davvero tanti i messaggi mi sto sforzando di andare lì e e dire ehm senti una cosa che puoi trovare anche su google perchè effettivamente non rispondere proprio mi sembrava mi sembra tuttora una grande carognata e dato che non ci sono molti youtubers che lo fanno principalmente per il mio stesso motivo ecco mi sembrava una buona cosa iniziare a farlo ehm zi i need a little bit more of of wool per fortuna abbiamo anche i carissimi fappers e qua devo semplicemente riempire questo perchè cos'è sto casino non è che qua tipo sono venuto a prenderci merda della della sabbia non me lo ricordo potrebbe anche essere oppure non lo so esposo qualche creep qualche tuono tonante si tuono tonante mamma mia il lessico il lessico quella pecora dovrebbe venire in questa direzione perchè non sapesse la pecora di genera la lana solo quando mangia un pezzo di di terra quindi di erba erba deve essere verde quindi finchè non torna qui quella quella pecora non mi è molto utile anzi sai che ti dico mi è inutile sai che vuoi dire inutile proprio ti odio biac ok ok sto prendendo le ultime capocchie di 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 cosa 31 bella lì vai così ok 42 non sono ancora sufficienti secondo i miei grandissimi calcoli quindi ne approfitto per prendermi un altro po' di roba ehm ora volevo aggiornarvi ehm completamente su quello che era il progetto di beneficenza che ho tenuto attivo per quanto tra quattro giorni ehm con delle stream serali io streamavo giocavo ehm niente voi utenti voi caciotti caciotti che nome strano caciotti mamma caciotti ehm chi poteva dava anche una donazione significativa ehm allora effettivi abbiamo guadagnato 900 guadagnato abbiamo donato ehm 100 dollari però come ho già spiegato più di una volta quello era stato è stato quello è stato un progetto sponsorizzato ehm dal USAID che è praticamente il governo americano e cosa è successo? è successo che quei 900 dollari alla fin fine dei conti tra un moltiplicatore e l'altro sono diventati 10.000 dollari che sono andati a ehm diciamo a supporto della nostra causa ehm ecco della nostra causa a noi particolarmente come italiani se dobbiamo fare proprio i precisini non è che ci interessa molto ci interessa nello spirito di aiuto ehm globale in particolare questa era una causa rivolta a al corno d'africa ma l'ho spiegato in live eh l'ho spiegato troppe volte ok basta comunque 10.000 dollari non sono pochi ehm se non ci fosse stato il sistema di moltiplicatore non penso non penso che avrei fatto questa cosa perchè sono consapevole che quanti iscritti ho ora? 60.000 60.000 iscritti ehm non sono cosi tanti quando uno vuole fare un progetto di beneficenza soprattutto in questo periodo in Italia diciamocelo chiaramente ehm invece diciamo contro ogni mia aspettativa abbiamo raccolto quasi mille dollari solo noi cioè mille dollari di nazioni effettive che è una bella cosa una bella cosa poi vabbè c'è stato russiva hd che è uno streamer a non lo so cos'è olandese mi pare non lo so penso sia olandese o magari americano no non dovrebbe essere europeo comunque lui ha raccolto direttamente 100.000 dollari proprio diretti senza moltiplicatore col moltiplicatore cioè ha racconto tipo un milione e mezzo di dollari gg ok ti stiamo avvicinando comunque qua sopra non ci farò il solito sistema dei pirati ma ne sono venuto fuori con uno sistema un po' più originale che non ha senso ok non ha moltissimo beh in realtà non ha proprio senso però è almeno originale e a noi ci piacciono e a noi ci proprio l'italiano correggiuto a noi piacciono le cose un po' più originali eh va 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 ci sono un fottio di pecore dietro la farm di iron sai cosa vuol dire un fottio peccato che qua non ci sia erba sul serio cioè se tutta questa lanna ricrescesse non avrei più bisogno della farm di lana per l'appunto cioè ti rendi conto della quantità di lana sono già quasi a 30 quasi qua si prende un po' di grano e me ne porto mi faccio una di quelle farm estensive tipo sfruttamento minorile di di agnelli tipo più o meno quelle lana hai presente tipo un quadrato scavato in cui ci metto dentro le le cose easy as that con i cacchi sono quelle grigie non mi interessa perchè non si può ricordare we are cool we are cool ah no ok moccano loro hehehe mi sembrava che l'avessi saltato in realtà voi siete il pezzo più pre-lot stupidi zombie ce ne sono un botto mi piace mi piace mi piace mi piace ok ok attacco 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 a giocolare e tu cosa dovresti fare vieni via no oddio cosa stavo per fare stavo per fare questo this is sparta non l'ho fatto apposta ho la registrazione si vede non l'ho fatto apposta ora più o meno eeeh 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 sto terminando sto terminando sto terminando adesso lo vedo no mi sa che sto sbagliando ah devo notare sette sette mmmm la bull bianca mi sa che devo andare a prendere qualche altra bull bianca ammetta allora quello che dobbiamo fare ora è una roba di questo tipo allora qui lo attacchiamo tutto ooooh così saltiamo di uno e qui lo facciamo così mmmm no facciamo direttamente così ora dovrò buttarmi aia ok diamo intanto un'occhiata ok diamo un'occhiata dai diversi punti di vista oh si serve perfetto per uno screen se non che che mi manca il logo allora il logo il logo è l'ho fatto completamente a caso ragazzi eh ah eeeh la nave iniziale di cui vi parlavo era più o meno grande così in realtà era qualcosa di più tipo fino a qui però questa era solo la linea iniziale poi si tipo si apriva così si chiudeva così si alzava gli alberi mamma mia lasciare stare allora com'è vediamo un po' come vedete ho usato praticamente gli stessi materiali e devo solo terminare qua questi fence e poi sono apposto ehm si si dovrebbe essere tutto uguale allora com'è possiamo identificare un blocco centrale si ed è l'unico blocco nero quanto è alto? hm ah l'ho anche sbagliato gg no ma è meglio così è meglio come ho fatto nel mondo di minecraftita perchè non si vede la barra comunque semplicemente cos'è? è un segno che assomiglia a qualcosa hmm per un momento mi è sembrato il logo di gamehosting ma no era solo perchè era bianco e nero non è un... non c'è un vero senso logico semplicemente è una ok dovevo metterlo era un tentativo di fare un teschio con le ossa però eh diciamo che è diventato tipo una lampada di aladino più o meno ok allora ehm sono 5 e 1 2 2 1 bene me lo ricorderò? no per questo vi farò uno screen ok andiamo a farcelo tutto ehm 9 mi bastano 5 6 7 8 9 10 no me ne servono 11 ti rendi conto 11 per quanto? mamma mia povera scia è stata sconsumata a morte ho finito anche un bel po' da mangiare ah mi sono appena ricordato che per farmare le squid avrei potuto usare il mio metodo a scuba diving cioè quello da immersione vi ho risparmiato un bel po' di tempo ma dettagli dettagli let's get back to work ma quanto sono nabbo no no tranquilli ditemelo quanto sono nabbo otto 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 quanto un abog sei a proposito ma funziona o non funziona il sistema di fapping che secondo me quando quando non sto avvicino le opere non fungono infatti non devo ancora arrivare niente devo provare a stare un po' fk alla farm di mob e secondo me qualcosa ci arriva scusate era un po' lontano dal microfono era in modalità molto scialla ok andiamo a fare sto logo si ah bici buah bene ok ok questo è il blocco centrale noi cercheremo di andare in alto da qui ci fermeremo più o meno qui questo sarà un blocco nero bianco sono nella memoria ma dovrebbe essere una buona memoria oh yes la memoria la memoria c'è qualche blocco qua? ok ah a proposito di blocchi prima di dare un'occhiata ecco perché ho notato che da distante questo la sistema di vedetta qua è decisamente troppo spesso questo lo eliminiamo teniamo solo questo qui dove possiamo stare effettivamente effettivamente non è che erano molto sicure le postazioni di vedetta no? nelle barche dei pirati nelle barche così medievali del nuovo mondo quindi gg ok proviamo a dare un'occhiata una città dunse 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 tagliee ecco ecco ora mi ci vorrebbe solo quello di cui vi parlavo prima un bel tramonto Criamoci una, giusto giusto una Una barca perché ora Eliminerò tutti Ok Ok Oh anche Merda Stiamo male Dove mettere blocchi anche qua sotto No che figata Oh stile Avete presente tipo Pirati dei Caraibi Ma in direzione alla prima luna Che fanno Che usano questa tecnica per 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 barare la nave Ha senso Mi piace Cioè non ha molto senso perché è una barca verso l'alto Se fosse stata una scialuppa avrebbe avuto più No cos'è quel blocco glicioso Shit Sì comunque penso di aver fatto il logo in maniera Sì sì dovrebbe essere uguale Ok aspetterò 5-6 minuti Per il sole E ci vediamo qua Siamo ancora qui E la colpa è di brand Ecco qui ci avviciniamo al tramonto Intanto Prima di avviarmi la conclusione vi ricordo di iscrivervi al canale se volete restare ragionati su questi prossimi upload Ma ha senso sta frase Questi prossimi Se volete stare a giornalizzo i prossimi upload Questi non ha senso Vabbè gg E andiamo a vedere lasciare un like se avete credito l'episodio Purtroppo non ho fatto molto oltre allo spillbull Se non completare la vela Ma Il tempo per oggi era praticamente over 9000 No E sono anche in ritardo sulla tabella di marcia Ad ogni modo Sì Mica Pensavo ci mettesse un po' di meno Voglio uno di quei bei Screenshot Dai dai Inizia a diventare rossaccio Rossiccio Quel rosso sangue Dai Dai Please Ti prego E dai Dai lo so che lo vuoi Dai Sole quadrato dei miei stivali Dai Dai Lo so che lo vuoi Dai No non diventa arancione Ho delle fence con me Poche Devo finire le fence da sopra Dai Please 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 Oh si Si sta arancioniggiando Arancionizzando Arancionizzando Ok 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 Più rosso Più rosso Più rosso Più rosso Più rosso Ok ora inizia a fare scritti da manetta Prima o poi beccherò quello giusto Ecco 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 ma uno così accattivante ecco fammi un bel sorriso brava così vera così mobilitette a bravissima questa si che è la mia barca Quindi per questo è tutto io vi saluto ciao a tutti Ciao a tutti